Ciao a tutti, oggi prepareremo i pancake al cacao con glassa al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, cacao amaro, latte, uova, zucchero, lievito per dolci vanigliato, burro, sale e per la glassa cioccolato fondente e panna fresca per dolci. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. Lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, la farina, il cacao, il latte, le uova, il lievito e il sale. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 6. Trasferire in una ciotola e riporre in frigo per 20 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il composto. Adesso cucineremo i pancake, scaldare una padella e mettere un pezzettino di burro, versare un mestolo di composto e formare un disco di circa 8-10 cm e cuocere da entrambi i lati e ripetere l'operazione fino al termine del composto. Nel frattempo prepariamo la grassa. Mettere nel boccale il cioccolato e tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la panna ed azionare il bimbi per 6 minuti, 60 gradi, velocità 3. La glassa è pronta. Mettere da parte. I pancake sono cotti. Decorare con la glassa e servire. pancake al cacao con glassa al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!